Ospite di questo appuntamento con l'intervista è l'assessore comunale di Scicli alla Ecologia Bruno Mirabella, benvenuto all'interno di questo spazio di approfondimento. Grazie, buonasera a tutti. Assessore, cominciamo da questo dato. Tre assessori in questo delicato settore si cambia spesso, no? Si è cambiato spesso. C'è un motivo? Nì, nel senso che c'è una domanda molto difficile. Abbiamo avuto dei seri problemi per quanto riguarda la gestione, perché abbiamo cambiato, oltre a cambiare tre assessori, abbiamo cambiato tre ditte. Da New System, Dittapucci e poi adesso c'è la TEC. E quindi diciamo che gli altri assessori sono stati, come si dice, in una fase transitoria di questo cambio ditte. Ecco, le ditte avevano incarichi per un anno e non riuscivano a pianificare le loro attività. Adesso c'è una ditta che ha vinto una gara d'appalto per sette anni, in questi giorni firmerà il contratto e con loro adesso si riesce a pianificare, perché comunque c'è anche la ditta a un utile d'impresa e quindi investe nel territorio. Quindi mi pare di capire che comincerà e inizierà una nuova fase? Sì, c'è a tutti gli effetti una nuova fase, una nuova programmazione e forse prima non si riusciva a fare una buona programmazione per questi motivi. Quindi niente da togliere agli altri due assessori nella visione di questo settore. Diciamo che io sono quello fortunato. C'è chi dice che lei è però un assessore nel mirino, nel senso che tutti lo aspettano, no? Cioè per vedere che cosa riuscirà, tra virgolette, a combinare in questo delicato settore. Sì, guardi, questa è la cosa che sapevo fin dall'inizio. Ho preso tre assessorati, diciamo quelli proprio più impegnativi, i tributi, il CED, cioè l'informatizzazione del comune, e il settore ecologia che ad oggi è intorno al 22-23% di raccolta differenziata il mese di dicembre. Devo dire che da quanto mi sono insediato ho fatto un conteggio delle discariche abusive. In due giorni ho contato 65 discariche abusive. Quindi il primo impegno che ho avuto come assessore, ma anche come uffici comunali, è proprio di chiedere alla ditta di togliere e di cercare di togliere tutte le discariche. Pensiamo nel prossimo mese di riuscire a togliere anche le discariche piccole. Stiamo investendo molto nella comunicazione. Devo dire un grazie soprattutto ai cittadini che mi collaborano, perché ho decine e decine di segnalazioni, e soprattutto gli operatori ecologici che sono il perno fondamentale della raccolta differenziata, che prima magari non si calcolava nessuno. Invece insieme alla ditta incominceremo proprio nella formazione ad ascoltare gli operatori ecologici, partendo dal porta a porta e a tutti gli altri, perché loro sono sul territorio e loro hanno una buona esperienza in campo. Perché tutte queste discariche, 65, un po' colpa del comune, un po' colpa dei cittadini incivili? E' una sinergia. Abbiamo delle colpe noi, perché siamo stati impreparati, perché per fare una buona raccolta differenziata bisogna avere un centro di raccolta dei rifiuti. E questo è il CCR, il centro di raccolta dei rifiuti comunale, è una cosa molto importante, dove le persone possono portare in questo sito tutti i tipi di rifiuti. Bene, noi abbiamo avuto questo sito finanziato a San Biagio, con capitale di 160 mila euro. Al momento di partire la regione non ha dato un terzo del capitale. Bene, la cosa si è sbloccata qualche settimana fa e si sono avviati i lavori. E quindi questo è un altro fattore positivo. Quanto prima avremo il CCR, i cittadini che hanno rifiuti incompranti possono andare a differenziare in un primo momento lì. Poi successivamente ci saranno anche le pese, quindi il rifiuto sarà pesato e soprattutto quello differenziato verrà caricato in bolletta, che si divide su una parte fissa e una quota variabile che dipende dalla quantità di rifiuti che tu riesci a differenziare. Assessore, per quanto tempo Scicli deve continuare a indossare questa maglia nera in fatto di differenziata? Scicli, ultima. Io ho giocato una carta davanti a persone importanti, all'SR Aro 7, davanti al commissario della regione siciliana, in cui nel momento che si è parlato di Scicli sono stato attaccato da tutti, però non mi hanno sentito a primo acchitto. Nel momento in cui ho alzato il tono della voce spiegando una cosa che è sotto evidenza da tutti, quello che succede è che Scicli ha un'emigrazione di rifiuti dei comuni periferici verso le borgate di Scicli. Faccio un esempio, io stesso ho fermato delle persone, 5 persone, uno era di Modica, uno di Vittorio e tre di Raguse, che venivano a scaricare a Donna Lucata. Questo fine settimana è successo la stessa cosa, però stavolta il Presidio non l'ho fatto io, hanno fatto i vigili urbani e sono state fatte 5 sanzioni. Quindi di fronte a questo discorso, io ho chiesto al Presidente SR Aro che non è possibile che Scicli ad abitante produce 35 kg di rifiuti, a fronte di Modica 28, Ragusa 30, e poi guardiamo le attività commerciali, l'estensione del territorio è una cosa assurda, quindi c'è una parte di migrazione di rifiuti. Quindi il mio impegno è quello che ho chiesto, che aumentiamo la raccolta differenziata. Abbiamo chiesto alla Regione di darci il permesso, almeno per 200 tonnellate, di scaricare a capa dei Modicani. Se così faremo, noi eviteremo tutti i viaggi ad Alcamo, che sono una cifra durante l'anno di 800 mila Euro. Quindi se i cittadini innalziamo la raccolta differenziata tra il 35 e il 40%, abbiamo questa possibilità perché la discarica di capa dei Modicani non è satura al giorno, perché la provincia di Ragusa è al di sopra del 63% di raccolta differenziata, e io ho chiesto che il 3%, che gli altri comuni comunque non conferiscono in discarica, lo cedono ai Scigli, per noi sarà un risparmio, e potremmo infestire in risorse, a posto di farci delapidare il capitale degli Sciglitani stessi. Quindi se andrà in porto, io penso che il 50% del mio lavoro l'ho fatto per gli Sciglitani. Quanto tempo lei crede di avere bisogno per centrare questi obiettivi? Io ho bisogno all'incirca... Avremo i primi risultati, penso dai 3 ai 6 mesi, questa è la cosa più importante, perché stiamo attivando una serie di azioni. Faccio un esempio, gli ispettori ambientali, che inizieranno a distribuire l'informazione nei quartieri, faranno dei controlli, educheranno i cittadini alla raccolta differenziata. Voglio ricordare che la raccolta differenziata non è un optional, ma è un dovere di tutti i cittadini, quindi di tutte le attività, anche quelle commerciali. Se uno va a buttare in discarica i rifiuti e crea discariche abusive, è un costo che non paga lui, lo pagano chi differenzia le persone anziane, i più deboli. Quindi per forza di cose noi andremo con la mano pesante, andremo con le sanzioni, andremo con le denunce. Mi pare di capire, piano piano stiamo andando verso la conclusione di questo spazio, mi pare di capire che lei ha le idee chiare e sa che non deve fallire, no? Perché voglio dire... Sì, certo, certo. Allora, innanzitutto voglio dire, la seconda azione che abbiamo fatto è il regolamento Scicli-Quifidi-Zeco, che tra poco arriverà in Consiglio Comunale, e l'osservatorio viene dato in mano alle associazioni di volontari e associazioni culturali e ambientali che hanno l'obiettivo di suggerire affinché Scicli arrivi a zero rifiuti. Quindi c'è una sinergia, saranno impegnate anche nell'informazione, nella formazione e questa è la cosa più importante. Le azioni, ecco, una cosa, un'azione importante che faremo sabato e poi ogni fine settimana il sabato, ad esempio sabato saremo a Zaccarona all'interno dell'area mercato per la raccolta di rifiuti incompranti. Saremo sabato dalle nove e mezza al luna e mezzo, creiamo il primo CCR mobile. La settimana successiva saremo... Diciamola questa data. Sì, 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 sempre di sabato saremo all'uscita di Yunji che faremo raccolta di sfalci e giorno 29, sempre sabato, se non ricordo male, saremo a Donna Lucata, dietro... al mercato di Donna Lucata, dietro il lungomare, il parcheggio, dove faremo ancora raccolta di incompranti. Se questa iniziativa avrà un buon successo, questa iniziativa la faremo anche poi nei prossimi mesi. Ecco, questo per quanto riguarda l'immediato. Poi partirà l'informazione nelle scuole, il nostro punto di riferimento sono gli uffici comunali, gli ospedali, l'ospedale, le scuole e inizieremo un'informazione capillare anche con dei giochi per quanto riguarda i bambini. Nel lungo periodo dovremmo investire tutti quanti, penso alla città, ad una cultura del riciclaggio e ridurre i consumi. Questi sono i miei obiettivi, è fondamentale che noi investiamo in questo tipo di cultura. Quindi abbiamo una missione, degli obiettivi, aumentare la raccolta differenziata, diminuire le tasse, creare la cultura dell'ambiente e del territorio e iniziare proprio dai bambini. Lo so che è un progetto molto a lungo termine, creeremo, se riusciremo, centri di recupero del materiale, soprattutto una cosa molto bella, che è un progetto a lungo termine, l'emporio dell'usato, l'emporio comunale, l'emporio dell'usato, in cui chiunque ha degli oggetti, tipo giochini per bambini, televisori, computer, li mette a vestiti, li porta in questo emporio e puoi portare queste cose che devi buttare, che sono considerate rifiuti, che possono essere utilizzate da altre persone. e quindi si va a creare anche un'economia di scala. Il mio vantaggio, ripeto, sono i cittadini che in questo momento, e sono sconvolto per questo, perché abbiamo decine e decine di cittadini, centinaia di cittadini e associazioni che vogliono collaborare. Mi riferisco anche all'esempio di Giosuè e Agolino, che in questo momento hanno pulito i bordi di Spana, ma tanti altri, tipo lega ambiente, percorsi guidati di esplorio ambiente. Siamo tutti, io voglio che le associazioni, i cittadini, ma partendo anche dagli operatori ecologici e gli amministratori, devono essere con tutt'uno. Grazie, grazie all'assessore Bruno Mirabella. Non c'è tempo per poter parlare di altre deleghe, lo faremo prossimamente. Grazie, alla prossima. Grazie, buonasera a tutti, e vi raccomando, la raccolta differenziata è un obbligo. Buona serata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.